Buona serata, benvenuti a questo spazio elettorale a pagamento, questa sera dedicato ad Adrio Marini che si candida al Consiglio regionale con la lista Rinasci Marche a sostegno di Mangialardi Presidente. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli elettori. Allora Adrio, andiamo subito a parlare e a conoscere lei, il suo lavoro, quello che fa solitamente. Si presenti? Dunque, io sono un lavoratore che ha cessato la propria vita lavorativa il 31 luglio, anche se per la verità era dal 1 gennaio 2020 che ero già fuori dai dipendenti del Ministero della Giustizia che è quello per il quale ho lavorato per oltre 40 anni. Io ho sempre lavorato nel mondo della giustizia, sono stato un funzionario giudiziario e ho ricoperto varie cariche come responsabilità e da ultimo anche quattro settori contemporaneamente. Benissimo. Quali sono i suoi hobby, i suoi interessi? I miei interessi sono molteplici, a parte quello di interessarmi, come detto, della politica. Io sono sempre stato un po' vicino ad un centro-sinistra progressista liberale. Sono assolutamente sempre stato dietro ai partiti che hanno fatto politica, anche se non in prima persona. La mia attività si è svolta più a livello di settore nel sindacato per le problematiche contrattuali e tutto ciò che ne era connesso. Perché quindi la scelta di scendere in campo? Perché appoggiare la lista Rinasci Marche? La scelta di scendere in campo è perché mi sento probabilmente, non vorrei irritare gli elettori, sia quelli che sono indecisi, che invece vorrei assolutamente raccogliere, perché mi sento una persona adatta, una persona che ha acquisito nella sua attività lavorativa molta professionalità, esperienza, ho avuto anche molta passione. Io ho svolto le mie attività sempre con molta intensità e molta passione. Credo di aver acquisito nel tempo anche molta competenza, per cui queste, oltre ai valori umani che una persona mantiene, che io credo di avere ancora integri, quello dell'onestà intellettuale, dell'onestà personale, della sincerità e trasparenza vorrei portarla nel mondo politico ed essere la persona giusta che non è schierata da apparati importanti dove magari delle scelte sono sempre quasi obbligate, non sei libero di scegliere, libero di dare iniziativa e anche perché potrei essere un grande controllore delle norme delle quali ho sempre masticato quotidianamente nel settore giudiziario, ma anche amministrativo ed anche non, come ho detto prima, perché ho seguito i partiti politici, per cui ho guardato anche le normative che erano quelle che riguardavano esclusivamente il mondo politico. Ecco, ricordiamo anche quali sono un po' i pilastri su cui si regge rinascimarche. Ho deciso di accettare rinascimarche perché è una coalizione che rappresenta appunto le mie ideologie quasi completamente direi, o forse completamente. Più Europa, noi siamo proprio i più intenzionati a che l'Italia rimanga ma che consolidi l'Europa sotto ogni punto di vista. Se non avessimo avuto l'Europa in questo momento con anche le risorse che ha messo a disposizione, tutti gli obiettivi sarebbero stati solo ed esclusivamente dei miraggi allo stato attuale. O ti sganci e crei moneta per conto tuo, crei debiti all'interno dell'Italia, ma ci vuole anche chi studia questa cosa e ne garantisca che l'uscita sia il meno dolorosa possibile. Per quanto mi riguarda io credo che l'Italia non sarebbe in grado di poter proseguire con le gambe proprie. Benissimo. E invece adesso andiamo un po' a parlare, a raccontare quali sono i settori sui quali lei si vorrà concentrare una volta eletto consigliere regionale. Il settore noi abbiamo puntato in particolare, ma non solo, sono le innovazioni, le nuove tecnologie, le energie rinnovabili, le energie alternative che devono essere applicate e utilizzate non solo per il rispetto dell'ambiente, per il clima, per la salvaguardia soprattutto del nostro pianeta che ormai proprio con il patto verde che è stato stipulato in Europa dovremmo comunque ridurre sempre di più l'uso degli idrocarburi, l'uso dei carbon fossile, l'uso delle generazioni di elettricità o di altro che comunque inquinano l'aria. Per cui queste innovazioni ed altro sono molto proiettate anche alla disponibilità europea che è stata messa a disposizione e queste cose devono dare iniziativa soprattutto per adeguare il motore economico dell'Italia, del quale io anche come attività pregressa ho visto la riduzione purtroppo, poi se abbiamo in tempo ne parliamo e quindi dare molto sostegno alle aziende produttive ma crearne delle altre sempre nel rispetto e nella compatibilità ambientale. Noi dobbiamo salvaguardare assolutamente i nostri mari che non siano più inquinati da plastiche da altro perché poi prima o poi ce le rimangiamo queste cose e soprattutto i territori. Le marche sono una ricchezza assoluta sia di arte sia di centri storici ma soprattutto anche di settori di eccellenza che è l'agroalimentare. La produzione agricola da noi è veramente a un livello di eccellenza. Abbiamo dei prodotti che cerchiamo di esportare in tutto il mondo. Forse un aiuto dovremmo darlo anche alle aziende del settore agricolo che raccolgono il turismo come anche i litorali. Io vivo sul mare, amo il mare ma amo anche la campagna da dove sono nato e quindi dicevo il settore agricolo è un settore che è di eccellenza ma le marche non sono ancora associate in consorsi sia di rappresentanza che magari di acquisti di prodotti che sono necessari. Quei prodotti che in futuro dovranno essere sempre più compatibili con l'ambiente e che dal 2030 al 2040 al 2050 dovremmo ridurre sempre di più fino ad arrivare alla quota zero cioè all'inquinamento atmosferico zero. Magari eh? Magari. Questo era come dicevo l'innovazione per creare lavoro e ce n'è di lavoro da creare con gli investimenti soprattutto a vantaggio per quanto mi riguarda il settore giovanile. Io tengo molto al settore giovanile. Sono un genitore di figli che stanno per entrare o sono entrati da poco e stanno con molta difficoltà entrando nel mondo del lavoro. Dovrà essere sempre più facile. Nel sociale dicevo infatti anche per quanto riguarda le scuole e le università dovrebbero essere sempre più vicine al mondo del lavoro. Far fare formazione fin dalle scuole superiori. I giovani devono conoscere la società in cui vivono da subito per avere anche un indirizzo migliore di dove poi salire se vogliono fare studi superiori o inserirsi da subito. Questo è nel sociale che poi per quanto riguarda invece la sanità che chiunque la vorrebbe sia territoriale sia forte in tutti i settori in tutti i paesini. Io credo che questo sia possibile solo rafforzarlo creando dei centri comunque di eccellenza per la salvaguardia della salute ma i centri di eccellenza specialistica non possono essere presenti dappertutto. Bisogna che siano il più vicino e accessibile possibile e la sanità deve essere il più accessibile soprattutto per le fasce meno ambienti le più fragili per le quali io ho un occhio di riguardo. Io lo voglio dire solo a telegrafico sono un post covid molti dicono miracolato però io ho passato la fase critica quella più impegnativa e sono qui come vedete in ottima salute anche a livello pneumologico ho fatto i miei controlli. Nella sanità vorrei che fosse sicuramente rafforzata sicuramente adeguata e migliorata però abbiamo visto e ne siamo a conoscenza il recovery fund non ci dà molte risorse per aprire soprattutto nuovi ospedali per dare attrezzatura ai nuovi ospedali per poter fare anche dei screening ci vogliono attrezzature importanti attrezzature molto costose e se vogliamo ritornare al settore pubblico con meno finanziamento ai settori della sanità privata dobbiamo comunque attrezzare i nostri ospedali meglio dare più specializzazione ai medici, medici di ogni settore che devono avere le loro specializzazioni per arrivare a delle eccellenze locali e quindi io direi che creare dei poli molto vicini all'intero territorio con tutte le specialità e con soprattutto delle eccellenze nelle specialità sarà una cosa da iniziarsi e progressivamente realizzarsi in poco tempo ma dare a tutto il territorio comunque dei presidi sanitari di assoluto valore per la salvaguardia della salute vorrei precisare che oltre che la sanità ha dei centri di eccellenza io sono uno di quelli salvati dalla sanità che il covid comunque è stato drammatico in italia facendo oltre 36 mila vittime ma non ci scordiamo che noi per l'inquinamento atmosferico l'inquinamento soprattutto degli idrocarburi con le polveri sottili abbiamo circa 75 77 mila morti all'anno caspita quindi un numero grossissimo il doppio del covid ma è annuale il covid speriamo che non ne fa più i nostri litorali sono ben sviluppati e anche quello dell'intero territorio è un territorio che è visitato dai turisti ma va assolutamente potenziato con anche le infrastrutture ma adeguare anche le strutture ricettizie e nella recupero del territorio non vorrei dimenticare soprattutto i terremotati un problema che comunque non solo la regione dovrà iniziarlo ma è lo stato che dovrà completare quella problematica che non è proprio regionale è a cuore della regione ma deve essere assolutamente presa a cuore dal dallo stato e allora adesso chiudiamo questo spazio con il suo appello al voto il mio appello è allora di votare rinascimarche con la preferenza marini per avere una persona nuova una persona che porta tutto il complesso dei suoi valori della sua esperienza della sua anche competenza e professionalità oltre che tanta passione anche per questo settore che è la politica dove io posso dedicarmi a tempo pieno e quindi vorrei affidarmi agli elettori che sono indecisi di avere fiducia di una persona che porta sicuramente trasparenza e completa onestà personale intellettuale nella regione Marche e allora grazie in bocca al lupo allora ad adrio marini per questa campagna elettorale e chiaramente il mio consiglio è quello di andare a votare il 20 e il 21 settembre perché è un diritto e un dovere di tutti noi cittadini grazie e buona serata grazie anche a voi e a tutti gli elettori che crederanno in marini grazie grazie